Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Il diritto in piazza, Festival del diritto, in realtà nasce da, questo diciamo così, un aneddoto tra due colleghi, il presidente, l'avvocato Michele Coletti e la co-ideatrice del festival, la collega Angela Bufano. Sentivamo l'esigenza di concludere l'attività formativa con una manifestazione che potesse portare in piazza e quindi tra la gente tematiche troppe volte chiuse nei nostri studi legali e quindi alla portata del comune cittadino. Ed è così che nasce il diritto in piazza, che si struttura in tre giornate. La prima, quella che diciamo sta partendo, qui con i saluti introduttivi al teatro Traetta, una rappresentazione teatrale con alcuni colleghi attori. Subito dopo ci sarà un cineforum all'interno del Torrione Angioino e poi così concludiamo questa prima serata. La seconda invece si riapre al Torrione Angioino con il presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, il dottor Greco, si parlerà di fecondazione assistita, di adozione e subito dopo ci sarà un concerto musicale del gruppo Immagini, sempre qui al Traetta. E per concludere la terza giornata che si apre con la mattina sulle terrazze del Torrione Angioino con due argomenti molto interessanti. Avremo ospiti anche molto autorevoli, come il dottor Stefano Celentano, magistrato del Tribunale di Napoli, che ringrazio anticipatamente per la sua partecipazione. Nel pomeriggio invece avremo una riflessione sul tema come conciliare i tempi lavorativi e la famiglia con la collega Roberta Desiati nel foyer del Teatro Traetta. E per finire, le conclusioni, i ringraziamenti da parte del nostro presidente, è uno spettacolo Paolo e Francesca, ipotesi semiseria, dell'attrice Daniela Baldassarra, sempre qui al Traetta.